Più di 10.000 persone hanno manifestato a Dresda, in Germania, contro quella che definiscono l'islamizzazione dell'Occidente. Promossa da movimenti di estrema destra, la manifestazione è stata confermata in extremis, nonostante i numerosi appelli di quanti avevano chiesto di sospenderla. In risposta alla mobilitazione della destra, anche i movimenti antirazzisti e le associazioni di volontariato hanno manifestato in diverse altre città. A Monaco di Baviera, a cui si riferiscono le immagini, 20.000 persone hanno attraversato in corteo il centro della città. Tra i cartelli, molti quelli esposti in segno di solidarietà con le vittime francesi e quelli inneggianti ad una società multietnica e al rifiuto della violenza.